Una nuova puntata dell'intervista, la trasmissione settimanale di Videocalabria che va in onda ogni venerdì pomeriggio alle ore 15 con due importanti repliche la domenica e il lunedì. E' la prima puntata di questo nuovo anno, 2023. Siamo sul lungomare di Catanzaro Lido, una giornata di sole splendida, quasi il prolungamento di un'estate. In questa nuova puntata parleremo di politica e lo faremo incontrando uno dei protagonisti della politica catanzarese di questi ultimi anni. Sul lungomare di Catanzaro Lido incontriamo il professor Franco Cimino, un personaggio noto della politica calabrese. Franco, hai fatto il segretario provinciale della democrazia cristiana negli anni in cui la politica contava molto. Poi la tua passione politica è proseguita, non sei mai allontanato da questa radice culturale politica della democrazia cristiana, ovviamente seguendo l'evoluzione di quello che è stato il grande cambiamento che il nostro paese ha avuto dal 1992 in poi. Per chi è stato segretario di un grande partito, di quello che era il più grande partito d'Italia, che cos'è la politica oggi? Una grande sofferenza, una grande sofferenza perché la politica non c'è e non c'è pure una parvenza di essa che potesse essere confrontata con la politica, con la prima uscola, come la definisco io, degli anni passati. Sia ben chiaro, anche lì vi erano le contraddizioni, vi erano gli errori, vi era anche una buona questione morale, però il significato di politica è rimasto intatto. E qual è il significato di politica? È quella che vede la stessa come il luogo in cui la gente si incontra. Io avevo a dire l'io diventa noi, senza perdere nulla di sé. E viene vivificato dagli ideali, che è in maniera diversa. Ciascun io che diventa noi, che sono poi le formazioni politiche, i partiti, rappresenta. Adesso non c'è nulla, non sono gli ideali, non ci sono i luoghi della partecipazione, perché politica è partecipazione. Politica è il legame stretto che vi è fra gli interessi diversi e le istituzioni, all'interno delle quali gli interessi diventano bene comune, diventano progetto per tutti. Spieghiamolo soprattutto alle nuove generazioni che ci ascoltano. Un segretario provinciale di un grande partito, che poteva essere appunto la democrazia cristiana, come nel tuo caso, anche del partito comunista o altri partiti, comunista, socialista, repubblicano, tutto. Viveva quotidianamente un rapporto diretto nelle sezioni di partito, anche dei comuni più piccoli, vero? Certo, certo. Quando dico il luogo della partecipazione, voglio dire della partecipazione diffusa, capillare. Ogni comune, all'epoca, aveva una sezione. La sezione cos'era? Era il luogo di incontro degli aderenti a quel determinato partito. E in quel luogo si discuteva, in quel luogo si studiava, ci si confrontava. E attraverso questa forma di partecipazione si formava una classe dirigente a tutti i livelli, da quella sezionale a quella comunale, poi a quella provinciale. E da questa classe dirigente veniva fuori la proposta politica. E comunque un partito doveva spiegare ai gruppi dirigenti alcune scelte, ad esempio chi sarebbe stato il candidato a sindaco o il componente di una giunta. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Non solo. Ogni partito doveva democraticamente scegliere la propria classe dirigente. Quello segretario di partito della sezione aveva uguale dignità politica e morale del segretario nazionale del partito. Perché? Perché ciascuno rappresentava la base che lo aveva eletto democraticamente. Adesso non esistono né le sezioni, né i congressi, né i luoghi in cui questa forte di elezione della classe dirigente possa avvenire. Ci sono i partiti personali. Uno forma il proprio partito, quel partito si chiama partito Tiganisava, e tutto si muove attorno a quella figura. Per cui se tu sei, e quindi non può esserci il dissenso, non può esserci l'opposizione, quale era forza necessaria e utile all'interno delle forze politiche perché esse vivificassero il loro pensiero e rinnovassero la propria classe dirigente. Adesso se tu non sei per esempio di Salvini sei fuori dalla Lega, se non sei con Berlusconi sei fuori da Forza Italia, se non sei con la Meloni sei fuori da Fratelli d'Italia e vi di seguo. Caliamoci ora in una realtà calabrese, di una regione del sud, stracarica di problemi di emergenza e condizioni economico-sociali difficilissime. I parlamentari vengono essenzialmente scelti da Roma, dalla capitale, di qualsiasi raggruppamento si parli. Poi abbiamo dei consiglieri regionali che devono necessariamente inseguire un voto di preferenza. Abbiamo questa nuova figura dei governatori. I governatori non esistevano in questa dimensione. Oggi un presidente di regione ha grandi poteri e ha poteri che possono non consentire il dissenso, nel senso che un'assemblea regionale difficilmente mette in discussione l'esistenza di una legislatura, perché in questo caso ci rimetterebbero politicamente sia quelli di maggioranza ma anche quelli di opposizione. Poi abbiamo queste figure nuove dei sindaci, che comunque hanno maggiori difficoltà rispetto a un presidente di regione, perché hanno meno disponibilità finanziarie, ruoli di consiglieri comunali che non sempre sono all'altezza della situazione. Mi riferisco allo spessore politico. Insomma, in una regione difficile come la Calabria, fare politica che significa oggi? Significa esattamente restare, aggravandola nella condizione di miseria complessiva nella quale la nostra terra si trova. Miseria non soltanto economica, per via della retratezza, della mancanza di struttura, ma proprio quello che noi sappiamo essere. Miseria in quanto conseguenza di questa retratezza, quindi della povertà estesissima dei calabresi. Miseria della dinamica sociale, perché in conseguenza di questa estensione della povertà, vi è l'arricchimento, diciamo abinorme, dei pochi già ricchi, o di quelli che arrivano all'ultimo secondo e in maniera strana formano le proprie ricchezze, senza tra l'altro manca una capacità imprenditoriale che possa essere manifesta e documentata. Miseria culturale, perché manca la forza vera che anima le società e le porta al cambiamento, che è la cultura, che è fatta da pensatori attivi, non da pensatori che stanno nei loro studi a contemplare il nulla o ad aspettare che le istituzioni li premi in qualche modo. Miseria della cultura come mancanza di progetto e di dibattito culturale in generale. Miseria della politica, perché noi assistiamo sempre di più ad un impoverimento della classe politica, che è conseguente di questo impoverimento generale, culturale, sociale, economico. Per cui alla politica si affaccia sempre di più un personale che non avendo un partito, quindi non avendo ideali, non avendo ricevuto una formazione politica, e quindi attraverso di esse anche una formazione morale, che è fatta di rigore dei comportamenti, quello che la Costituzione impone come atto di servizio, con onore e dignità alle istituzioni, a cui basta soltanto fare la caccia da una parte all'ossequio verso il potente romano, per cui si viene nominati da Roma deputati e senatori, e dall'altra parte la caccia al povero calabrese, al quale si propone come risolutore dei problemi che questa stessa classe dirigente produce, cioè la povertà, la mancanza di occupazione, un po' di sicurezza per i propri figli, e quindi vanno avanti quelli che fanno di mestiere la caccia di queste opportunità, la caccia eccetera. E quindi che cosa viene fuori? Viene fuori una contraddizione fra il rafforzamento dei poteri in capo ai capi dell'amministrazione, quindi i sindici e i presidenti, e un indebolimento delle istituzioni, cioè delle assemblee, i consigli comunali e i consigli regionali, che alimentano via più il potere dei capi, perché noi abbiamo nella maggior parte delle istituzioni calabrese e in particolare nel consiglio regionale della Calabria, un super presidente che comanda, è un consiglio regionale che per intero obbedisce, basta guardare alle cose che sono accadute in questi ultimi mesi, si vuole fare la proposta per l'ampliamento del consiglio regionale, il consigliere supplente eccetera, si esce fuori con questa proposta, si mette all'ordine del giorno per la prossima seduta questo punto, c'è qua un po' di reazione da parte della gente, un po' di indignazione, il governatore risponde, no non si fa, che cosa succede? che non si fa e così altre cose, quindi abbiamo un governatore che non soltanto governa come è giusto che sia il governo della regione, ma governa, cosa incredibile, a pensarsi l'istituzione rappresentativa e quella democratica, dove il governatore dovrebbe andare invece con molta umiltà, con molta gentilezza, con molta grazia a ricevere il consenso che gli consente di legare quel voto che lo ha portato alla presidenza e la sua proposta politica, invece è accaduto tutto, e così anche nei comuni, così anche nei comuni abbiamo i sindaci che sono da una parte dei piccoli imperatori, poi come dici tu, senza risorse e senza disponibilità, è enorme dall'altra parte i consigli comunali vuoti, di proposte, di iniziative, di forza, perché il consiglio comunale non è la somma della forza di quel consigliere, quel consigliere, quel consigliere, ma è un corpo unitario, unico, che rappresenta l'autorevolezza di una proposta politica che sancisce il fatto democratico per eccellenza, e cioè che la democrazia è nelle istituzioni assembleari che si realizza, non nei governi. Queste premesse che abbiamo fatto sono utili per calarci nella dimensione catanzarese della politica. Si è vissuto in questi giorni, e noi come gruppo mediatico siamo intervenuti, sia con i giornali online, ma anche a livello televisivo, con delle interviste, si sta vivendo questa difficile condizione di una città capoluogo che deve rincorrere scelte che riguardano il sistema universitario e in particolare la duplicazione della facoltà di medicina in una piccola regione con avvio molto probabile di una facoltà di medicina a Cosenza, lo si sta vivendo senza che la politica abbia avuto la capacità di guidare il processo. Mi sembra un'osservazione fondata alla quale potrei soltanto aggiungere questo, che il tono che è stato usato nel ritardo enorme col quale la politica di Catanzaro affronta questi problemi e nella divisione della stessa, fa pensare che questo problema così sollevato possa rappresentare una sorta di distrazione collettiva, non chiamano di massa perché altrimenti andiamo su culture lontane, per allontanare la città dalla consapevolezza che vi sono problemi enormi, urgentissimi, che paradossalmente con queste tematiche pur serie ed importanti hanno poco a che fare e anche la preoccupazione che nel governo di questa città ormai da anni e quindi ancora adesso sembra non esserci un'idea di città nuova, un'idea di sviluppo di questa realtà e quindi ho la preoccupazione, ho già manifestato, che in assenza di una proposta seria in cui collocare la questione università, la questione del becco, nuova eccetera, si possa scatenare nella politica di cui abbiamo parlato prima, senza ideali, senza attenzione morale, una sorta di nuova guerra dei campanili nella quale il comune capoluogo di regione diventerebbe, come dire, il capofila e non il capoluogo di regione che invece dovrebbe mediare fra i diversi interessi e portare la Calabria per intera, prima il capoluogo e poi il governo regionale, ad una sintesi, ad una unità di orientamento. Questa è la mia preoccupazione, lo confermo il fatto che non vi è stata né una riunione di Consiglio Comunale su questo tema, né una deliberazione unitaria del Consiglio Comunale. Ci sono tanti consiglieri comunali che si svegliono il mattino e dicono Madonna, ci stanno rubando, ci stanno rubando, ci stanno rubando, non stanno rubando niente, se non prendendo quello che noi abbiamo già ceduto. L'autorevolezza e il prestigio della nostra città, la forza politica, è un capoluogo che non abbia forze politiche. L'autorevolezza è alla merced di tutte le richieste di questo mondo e anche di questa assurda posizione di vedere moltiplicare, di vedere doppiare la facoltà di medicina in una terra che avrebbe invece bisogno di rafforzare le singole università. Quindi stiamo assistendo a una questione assurda, ma determinata da questa mancanza di visione politica e del coraggio. Anche da parte, poi qua c'è la questione del Presidente della Giunta regionale che non vuole capire ciò che gli è stato anche detto, che un capoluogo debole lui potrà fare di cosenze quello che vorrà, delle altre città simpatiche alla politica del nuovo governatore quello che vorrà, ma la regione senza un capoluogo forte, rispettato, non crescerà mai, non lo vuole capire e ne vedrà le conseguenze più avanti. Ma a proposito di contraddizioni della politica sempre su questo tema, ho notato ad esempio che il PD, che è uno dei grandi partiti in gioco, a Catanzaro con la sua vice sindaca Giussi Emma, che peraltro è anche un medico, prende posizioni forti e contrarie a questa duplicazione della Facoltà di Medicina. Qualche consigliere regionale del PD invece fa dichiarazioni e si congratula con questo successo politico di cosenza. È il segretario regionale del PD, Nicola Irto, che è anche parlamentare, non parla. Oppure ho notato la dichiarazione della sottosegretaria di Stato, Vandaferro, esponente di punta di Fratelli d'Italia, anche coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che si appella al Presidente della Regione Occhiuto e quasi facendo passare in secondo piano che la maggioranza che regge il Presidente Occhiuto dipende anche e soprattutto da Fratelli d'Italia. Potrei citare gli altri partiti, le altre contraddizioni politiche che mi è sembrato intravedere, addirittura la stessa posizione del Sindaco che interviene ma non si mette proprio a capo di un movimento politico forte su questa vicenda. Ecco, poi appunto si riflette sulla debolezza della politica e dei partiti. Hai dimenticato di citare il Presidente del Consiglio regionale? Il Cetanzarese, Filippo Mancuso, il marinotto Filippo Mancuso, che su questa vicenda sembra l'australiano che viene in Calabria così di passaggio. Che cosa significa questo? Significa che il problema non è tra gli atenei che si scontrano. L'errore voluto, pensare che vi sia una lotta tra l'Università di Catanzaro, stavo dicendo la nostra Università, ma l'Università di Catanzaro, quella del Calabrese, è l'Università di Cosenza, Arcavacata, la nostra Università, perché sono tutte Università come quella di Reggio. No, dividere l'Università nostra, quella di Catanzaro, l'Università di Cosenza, è sbagliato. Sono tutte e tre Università nostre. Concordo. Sono partenoni della Calabria. Della Calabria. Ma per questo faccio un discorso complessivo. Però trasferire il conflitto all'interno delle Università, come se si trattasse di uno scontro tra Magna Grecia e Arcavacata, è sbagliato perché non coglie il vero problema, la vera natura di questo problema. La vera natura di questo problema è che è Cosenza, dal punto di vista politico, è la Cosenza politica che cerca medicina e si serve dell'Università di Cosenza. E lo fa per rafforzare quella città e farla tornare, come i primi tempi di Mancini, una città forte, guida reale dei processi economici e culturali della nostra regione. Non si vuole capire che è questo, altrimenti non si capirebbe il lavoro che sta facendo Occhiuto, e Occhiuto è il grande regista di questa questione, e Occhiuto non è il rettore, non è il professore di Università, è il Presidente della Giunta regionale che è nato ed è vissuto a Cosenza, quindi c'è un progetto assurdo, assurdo, folle, di spaccare la Calabria e di costruire su Cosenza un grande polo politico, economico e quindi culturale che la farebbe diventare genomone e siccome ci sono in giro, come tu ben sai, miliardi che arriveranno al mezzogiorno e che non sono soltanto quelle del PNRR, ma tanti altri, questi lo sanno e vogliono realizzare questa Università. Lo scopo principale anche è quello di realizzare un grande nosocomio a Cosenza, un grande ospedale attraverso il policlinico, di realizzare lì l'adolbecco che è ancora acquistata. Ecco, perché il vero problema molto probabilmente che si nasconde ancora non è ben evidente all'opinione pubblica calabrese. E dove nascerà il più importante polo sanitario della Calabria? Sembrava essere una prerogativa di Catanzaro, nell'area di Germaneto, ma sarà ancora così? Ma io mi auguro, anche perché non realizzarlo significa mandare all'area una legge che è stata appena approvata dal Consiglio regionale, un protocollo di intesa fra regione e università che è compiuto, mancano soltanto le firme, incredibilmente le firme, anzi manca soltanto le firme forse del Presidente della Giunta regionale che come diceva qualcuno autorevole della nostra città ha inventato un impedimento di carattere burocratico e di legge che in verità non esisterebbe per come è stato spiegato, ma tra l'altro se anche esistesse sarebbe proprio una cosa minima, perché di fronte a un progetto così importante non può esserci un problema burocratico e se ci fosse potrebbe essere superato in pochissimi giorni. Io questa preoccupazione che salti questo progetto della Durbecco, del grande polo sanitario attraverso l'integrazione fra l'ospedale di Catanzaro e il policlinico universitario non la vedo, vedo però il rischio di un grave ritardo che possa facilitare questo progetto. Chiuderla prima, questa vicenda, mi offrerebbe la possibilità di dire no, adesso cambiamo le carte in tavola e forse restituiamo anche il cosiddetto santo indietro che è la duplicazione dell'Università di Cosenza, della Facoltà di Medicina di Cosenza, perché se togli l'aria a questo progetto anche i fautori dello stesso capiranno che non devono andare avanti e che quindi si può bloccare questo processo dell'istituzione della nuova Facoltà di Medicina e lasciare quell'altro anomalo strumento che è stato adottato un anno fa con l'istituzione di quel corso tecnologico applicato alle medicine, che era una piccola furberia che poi abbiamo visto essere soltanto l'anticipo della battaglia che hanno fatto per la Facoltà di Medicina. Ribadendo che facendo queste analisi politiche non si vuole in alcun modo alimentare lotte di campanile tra le diverse città calabresi, ma anzi dire esattamente l'opposto, che occorre avere una visione regionale che tenga assieme tutto perché lo abbiamo già sottolineato l'Unical, così come le università di Reggio, di Catanzaro e tutte le altre realtà istituzionali della regione sono comunque patrimonio di tutti i calabresi e momenti fondamentali per ogni ipotesi di sviluppo. Ma ritorniamo alla dimensione politica del capoluogo. Ci si sarebbe aspettati grandi trasformazioni dal punto di vista sul piano delle politiche culturali. Notiamo che c'è uno sforzo enorme per generare spettacoli, spettacoli, spettacoli su spettacoli, quasi che Catanzaro più che di grandi rivoluzioni avesse bisogno soltanto di un po' di festa, anche se alcune proposte di spettacoli possono e hanno senz'altro grande dignità, ma non stiamo giudicando il valore degli spettacoli. Si sta facendo davvero politica culturale nuova a Catanzaro? Si continua ancora a confondere cultura con lo spettacolo e con spettacoli, per cui alle amministrazioni e alla politica si pensa che tocchi il compito di organizzare manifestazioni così, di spettacoli diversi, magari prendendo il pacchetto completo, chiave in mano da qualche buon promoter o da qualche buon organizzatore di eventi e a Catanzaro ne abbiamo avuti parecchi anche in quest'ultima fase. Non è così, dobbiamo uscire da questo schema che tra l'altro ha convinto anche i cittadini, i quali sono portati, abbiamo visto, a ritenere soddisfatti se ci sono gli spettacoli buoni e questi spettacoli buoni ci possono soltanto durante le feste di Natale, perché è lì che si possono trovare i soldi, pochi o molti, per organizzare gli spettacoli. La cultura invece, la promozione culturale è diversa, è cosa diversa. Da noi per esempio si tratta di valorizzare il grande patrimonio culturale, anche artistico, che abbiamo, a partire dai luoghi preziosi che noi abbiamo. In ogni singolo quartiere vi sono dei luoghi che appartengono alla storia e alla fervente umanità che ha caratterizzato quei luoghi, in cui vi sono le tradizioni, in cui vi sono beni culturali propri, in cui vi sono sensibilità diverse. Ecco, un'amministrazione pubblica, regionale o comunale che sia, deve fare cultura valorizzando quei luoghi e tirando fuori, al contrario di quanto viene detto, l'identità specifica di quei luoghi. Noi per esempio siamo una città ricca di questa identità, di cui si ha paura di parlare, perché la nostra città ha questa supercolarietà, che è la somma di quelli che noi chiamiamo quartieri, ma nei quali si è vissuta una vita proprio di paese, con le proprie tradizioni eccetera. Ecco, la capacità della politica culturale è quella di mettere in attività queste risorse e poi di saperle portare a sintesi complessiva per valorizzare queste tante diversità che vi sono nella nostra città e poi anche valorizzare, diciamo così, come dire, la cultura proprio anche dal punto di vista artistico locale che è fatta di nostri artisti sotto tutte le varie forme espressive dell'arte, quella della musica, del canto, della pittura, della scultura, aiutando i giovani a credere in queste forme espressive e quindi anche a farsi in qualche modo nel loro piccolo, piccoli artisti, piccoli ricercatori di bellezza e d'arte e anche valorizzando la nostra gastronomia per esempio, noi abbiamo dei piatti straordinariamente tipici, alcune forme espressive della nostra cultura, questo finora non è avvenuto, è stenta a verificarsi, a realizzarsi e io credo che questo sia un problema che indeborerà notevolmente ancora la nostra proposta. Da parte mia aggiungo che una città capoluogo di regione dovrebbe avere la forza dal punto di vista delle politiche culturali di individuare due o tre filoni capaci poi di far diventare Catanzaro punto di riferimento per il Mezzogiorno, per il Mediterraneo, per l'Europa, perché poi questa idea e per questo talvolto ho fatto anche delle riflessioni sul teatro Politeama, l'idea che uno spettacolo debba essere consumato a beneficio essenzialmente degli abitanti di una città con i soldi pubblici mi sembra anche un'idea da rivedere, senz'altro viene fatto tutto in regola per carità di Dio ma da rivedere proprio come scelta di politica culturale. Per esempio il teatro comunale lo sta facendo nel suo piccolo, una proporzione di questo genere promuove cultura teatrale, non soltanto produce spettacoli teatrali, non soltanto valorizza le compagnie, non soltanto fa scuola di teatro e quindi forma attori o comunque educa alla recitazione tanti giovani che è una cosa che fa bene anche per migliorare il e il linguaggio promuove la lingua nostra che è il dialetto catanzarese e tutte le tradizioni che vi sono. Ecco io ad esempio per il Politeama penso che una delle opzioni strategiche dovrebbe essere quella coordinandosi con l'università, con l'Accademia di Belle Arti, con i licei, di iniziare ad esempio a formare professionalità sul fronte della scenografia, della gestione delle luci, dei tanti tecnici che girano attorno, una compagnia stabile, qualcosa che diventasse veramente crescere culturale, perché poi utilizzare un grande bellissimo teatro solo o quasi solo come contenitore di spettacoli mi sembra una visione un po' riduttivo. Tra le altre cose questo Politeama che tu rappresenti e la cui idea io condivido deve essere un Politeama itinerante che vada in giro per l'Italia a presentare se stesso attraverso le cose che realizza. Una volta ha prodotto, pagandola tantissimo, un'opera lirica che non abbiamo saputo che fine abbia fatto. Abbiamo acquistato i costumi, abbiamo realizzato i costumi, però non è andata fuori dal perimetro del teatro comunale. Bisogna fare questo. Politeama o diventa un grande laboratorio di idee e di innovazioni anche sulla scia delle cose che hai detto tu, oppure continuerà ad essere un luogo in cui chi ha la possibilità di farsi un abbonamento se lo fa. Io sono tra l'altro abbonato da vent'anni e non rinuncerei mai al Politeama per una sorta anche di cultura di affetto verso questo teatro e resteremo così. Sarà uno dei teatri in cui si rappresentano opere fatte altrove, belle o brutte che siano. Veniamo ad un'ultima domanda che riguarda sempre la dimensione politica del capoluogo. Il sindaco di Catanzaro, una personalità di centro-sinistra, un professore universitario dell'Unical, è una personalità che si è sempre distinta per battaglie politico-culturali sul fronte progressista, vince al ballottaggio contro un suo peraltro collega docente, il professore Valerio Donato che però è professore ordinario della Magna Grecia, vince ma per il meccanismo elettorale non porta con sé, non riesce a trascinare con sé una maggioranza consigliare. Per cui si è parlato di fenomeno cosiddetto dell'anatra zoppa. C'è un sindaco che non ha una maggioranza consigliare adeguata. Questo problema finora è stato affrontato con un assetto variabile, cioè non con un grande appello del sindaco alla collettività catanzarese e a quelle energie che fossero disposte dietro un grande ragionamento politico a risolvere questo problema. A proposito di questo, che cosa pensa Franco Cimini? Io sono come tu sai, sono stato come tu sai un grande sostenitore, quasi fanatico sostenitore di Nicola Fiorita. Ho pensato e ancora penso che possa essere un buon sindaco, ho pensato e ancora penso che lui possa essere il sindaco che questa città da lungo tempo attende. Però io gli rimprovero per quel poco che io possa fare di fronte al sindaco così autorevole e ad un amico così importante, che lui non abbia capito bene, non abbia voluto capire che quella sua debolezza iniziale della mancanza di una maggioranza solida, una maggioranza anche numerica, costituisse invece una forza, come io gli ho detto. Nessun sindaco secondo me di questi ultimi anni sia partito così forte come è partito lui, proprio perché non aveva una maggioranza. Questo che significava e che significa ancora che lui che è capace, intelligente e ha come hai detto tu una buona cultura, una buona sensibilità, doveva rivolgersi all'intero Consiglio Comunale, all'intero Consiglio Comunale, a cui proporre un discorso forte come quello che lui dal punto di vista programmatico ha proposto e al quale chiedere di lavorare insieme. Lui si sarebbe fatto, come ha fatto, ma forse avrebbe dovuto fare meglio, un'aggiunta davvero di altissimo profilo, quando un'aggiunta di altissimo profilo voglio dire di personalità che siano alte sottofilo culturale, sociale, morale, ma lontane dai meccanismi propri delle correnti, delle fazioni, dei falsi partiti che possono esprimere e con quella andare avanti chiedendo sempre il consenso dell'intero Consiglio Comunale. Insistere, come mi sembra stia facendo, nella ricerca di maggioranze, ho detto variabili, di maggioranze sempre diverse, perché se vai in questo meccanismo di condizionamento non troverai mai una maggioranza stabile, perché l'ultimo che arriva ti condizionerà come il primo che è arrivato, è una cosa sbagliata, indebolisce proprio quel luogo che lui avrebbe dovuto e deve valorizzare. La città ha bisogno di politica, perché attraverso la politica si possono avere istituzioni forti e Catanzaro ha bisogno che la sua istituzione, il comune, si rafforzi e può rafforzarsi soltanto con un sindaco che parli alle città e dica io voglio unirla a questa città, voglio tirarla fuori anche dalle brutte cose e polemiche che sono avvenute in questa brutta campagna elettorale, la voglio sottrarre dai condizionamenti, dai sottili ricatti che possano arrivare da questa o quella fazione, che si cercheranno ancora più forti quando ci sarà il piano strutturale, quando ci saranno le grandi scelte economiche, quando ci saranno le nuove scelte urbaniste e che io da qui ancora una volta rinnovo l'invito al mio sindaco di lasciare da parte chiunque lo tiri dalla giacca e di andare a fare una proposta alta, vada in consiglio comunale e dica con questo sistema non si può andare avanti, io non posso proporre, non posso produrre il progetto che ho per la città, voglio un'unità del consiglio comunale disposto anche a modificare cose all'interno della struttura e della gestione, ma in maniera alta, non in maniera compromissoria con chi va lì a dirgli io ti do questi numeri perché tu possa governare, perché così l'amministrazione andrà avanti per 5 anni ma la città andrà indietro di 50. Bene, grazie al professor Franco Cimino che ci ha fatto compagnia in questa lunga chiacchierata, che ha toccato temi prevalentemente di natura politica ma anche riflessioni sulle condizioni economico-sociali e culturali della Calabria e in particolare del capoluogo catanzarese. Questa è la prima puntata dell'anno, del nuovo anno, della trasmissione dell'intervista, voglio ricordare ai telespettatori che ci ascoltano che ovunque nel mondo ci sia un collegamento a internet potete seguirci sintonizzandovi sullo sito internet www.videocalabria.tv oppure tgcal24.it sezione diretta. Sono caro Franco i benefici che ci vengono dall'evoluzione tecnologica per cui si può essere locali e globali allo stesso tempo. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.